Mentre si cerca con grande fatica di autorizzare nuovi seppellimenti, in un momento in cui sono decine le bare tuttora dentro il deposito, è arrivato il via libera dell'aggiunta comunale di Sciacca al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di 280 loculi prefabbricati presso il cimitero per un importo complessivo stimato in 480 mila euro. L'intervento sarà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024. I tempi naturalmente non sono immediati ma è pur sempre un passo avanti per mettere a disposizione della comunità nuovi loculi e risolvere il grave problema della carenza di posti e delle tante bare in attesa di tumulazione, presenti al momento nei magazzini dell'area cimiteriale. Nel recente passato era stato possibile fronteggiare l'emergenza grazie alla disponibilità dei progetti di finanza che hanno visto imprese edili saccensi costruire al posto del comune nuove tombe e venderle ai privati. Un meccanismo che al momento vede fermi almeno altri due progetti in attesa di autorizzazione rimane comunque sullo sfondo il tema di una durata delle concessioni cimiteriali 99ennale che è probabilmente troppo lunga per permettere al comune di poter tornare in possesso dei loculi. È impensabile infatti che si continuino ad immaginare ulteriori implementi dell'area cimiteriale, un argomento che dunque forse richiede una revisione regolamentare che tuttavia vede la classe politica da sempre titubante e timorosa di riformare un settore che eppure altri comuni hanno avuto il coraggio di cambiare. Grazie a tutti.